Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi bene perché di fronte credo abbiamo la squadra più forte secondo me del campionato e quindi di conseguenza quando trovi squadre talmente attrezzate devi fare attenzione a qualsiasi cavillo perché può essere determinante ai fini di un risultato e quindi di una partita però l'importante è riuscire anche a fare una prestazione di livello perché sappiamo tutti quanti che siamo sotto l'occhio del ciclone questa giornata e sotto l'occhio del ciclone significa che tutti parlano di te, tutti ti vengono a vedere, tutti stanno lì ad attenzionare a qualsiasi cosa e fa parte di quello che è il nostro mestiere, il nostro lavoro. C'è Carelli che la fa? Si è fatto due allenamenti con noi anche se part time ieri, oggi ha fatto quasi tutta la rifinitura, credo di averlo disponibile però alla fine da qui a metterlo dentro dall'inizio non lo so, vedremo perché comunque il ragazzo sappiamo che ha tanta voglia di fare però non vorrei fare l'errore di buttarlo dentro sin da subito e poi perderlo quindi dobbiamo attenzionare a questa situazione. Di Dio no, ho fatto tutta la settimana a parte, di Dio ha bisogno di fare un esame strumentale da quello che mi dicono i medici perché comunque aveva lamentato questa pesantezza sul ginocchio e questa settimana ha fatto un lavoro a parte e attraverso il lavoro a parte che sta svolgendo ha avuto poche controindicazioni quindi è andato sempre meglio. Adesso vediamo cosa stabilirà insieme allo staff se continuare sulla linea di dover fare la risonanza oppure farlo riprendere gradualmente la prossima settimana. I punti di forza della cambia del tempo? Tutti, ci hanno due squadre, ho visto i giocatori che hanno il rosa e abbiamo visto anche parte della partita di Coppa Italia, gli esterni bassi che hanno giocato sono tali o uguali a quelli che stanno giocando titolari, hanno degli esterni importanti come Battista, come Chiriota, Eusepi lo conosco da una vita quindi so che tipo di giocatore è, Leonardo è una bella sorpresa, Guadalupe in mezzo al campo, Gandellori sono una squadra attrezzata, è piaciuto tantissimo anche Gennari, non so se Pezzolla ce la fa perché loro dicono che hanno avuto dei problemi con Pezzolla e offano. Siamo informati e sappiamo quello che andiamo a trovare domenica, sarà secondo me una bella gara perché i ragazzi non vedono l'ora di potersi confrontare con una realtà che a detta di tutti è anche nostra, sappiamo che è di primo ordine tra l'altro è una realtà che da due o tre anni spende soldi per poter vincere questo campionato quindi si porta anche dietro dei giocatori che fanno già parte di questo percorso e noi abbiamo tanta voglia di poterci confrontare con loro e capire anche qual è realmente la nostra forza. Dispiace che la gente sia rimasta fuori ma io mi metterei dietro i cancelli a cercare di fare di tutto per entrare perché ovviamente chi è appassionato di questa maglia, chi è appassionato del Chieti, soprattutto mi dicono tanti abbonati senza biglietto, è sicuramente brutto da sentire. Io all'inizio dell'anno, non so se voi ricordate, era uno dei primi obiettivi quello di portare questo stadio in una condizione di... Ci sia tanta gente perché ovviamente l'augurio era quello di fare bene perché solo attraverso i risultati, solo attraverso quello che si sta facendo insieme anche alla nuova proprietà si è creato questa attenzione attorno a questa squadra che ci fa piacere però ci sono anche delle risposte e quindi significa che il nostro operato finora è stato fatto in maniera greggia e spero sempre di più che possa aumentare questa attenzione verso di noi e portarci sempre più gente al seguito o fare innamorare ancora qualcuno che sta nelle cullette perché spesso quello che è l'attaccamento ai colori avviene attraverso un successo o attraverso dei risultati importanti avere questa responsabilità da parte nostra è una cosa bella e soprattutto per gente come me passionale, come la gente di Chieti passionale è sicuramente uno dei compiti che arriva prima di tutte le altre cose e vedere la gente che si appassiona di più alla maglia e le famiglie che parlano in casa del Chieti e i bambini che ascoltano crea quella bella passione, quel bell'attaccamento, quella voglia di legarsi ancora di più alla squadra che può portare solo dei benefici sia alla città che alla società